Perché salvare gli alberi di Via Roma? Intanto perché sono un viale storico, fanno parte della storia della nostra città e sono il cuore di questa nostra Saronno. Gli alberi sono la vita, sono l'ombra d'estate e sono d'inverno sicuramente importantissimi per combattere l'inquinamento. Saronno è una città con grossissimi problemi di viabilità, di qualità dell'aria e non capiamo perché per 10 cm di pista ciclabile lunga 240 metri noi dobbiamo tagliare 60 vagolari. Assolutamente no, noi difendiamo la Via Roma e difenderemo qualsiasi viale di quest'altra città. Saronno deve voler bene ai propri alberi, alla propria qualità di vita. Rimettiamo al centro la qualità della nostra vita anche a Saronno.